Quegli amministratori, compreso il sindaco che ha fatto abbandonare l'aula ai suoi consiglieri, devono avere il coraggio di dimettersi perché hanno portato il comune al fallimento. E il duro monito lanciato dal capogruppo di opposizione Praia Città d'Europa Antonio Praticò, a pochi giorni dal Consiglio Comunale convocato per il prossimo 30 settembre. I conti non tornano. Carte alla mano, l'ex sindaco di Praia, dimostra come l'amministrazione Lomonaco non può riconoscere un debito fuori bilancio su importi falsi. Le poste da eliminare anche dal conto consumtivo sono circa 1.250.000 euro. A questo si aggiunge un'ulteriore somma di circa 1 milione di euro che sono fondi che sono stati erogati da parte della regione e li ha consumati dalla Cassa e sono inesistenti. Somme false segnalate da Praticò già nella scorsa assise, durante la quale i consiglieri di maggioranza abbandonarono l'aula. Dietro queste indicazioni l'amministrazione Lomonaco si accinge a deliberare l'eliminazione dal bilancio delle cifre indicate, ma non basta per approvare gli equilibri delle casse comunali. Tra le poste false e le somme che sono già state spese siamo a fronte ad un ammanco di 2.200.000 euro. Un ammanco non di poco conto che potrebbe portare ad un dissesso finanziario. Noi abbiamo una cassa inesistente che è sotto zero di 2.200.000 da una parte e a questa si assomma ancora 1.800.000 euro di anticipazione di cassa.